Musica Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati a questo notiziario del Melo del Pero del 14 maggio 2021. Un saluto dalla Coldiretti di Verona, dall'Aipo OP, dal Consorzio Ortofrutta Veneta, dall'Associazione Tecnici Frutticoli e dal Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Verona. Veniamo ora alla fase fenologica del Melo. Ingrossamento dei frutti su tutte le varietà, con situazioni di crescita molto scalare. Gruppo del Golden Delicius siamo a circa 8-14 mm di diametro. Red Delicius 12-15 mm, Granny Smith 9-11 mm, Fuji dagli 8-14 mm, il Morgenduf 8-12 mm. Veniamo ora alla ticchiolatura. La vegetazione è molto recettiva alle infezioni e le precipitazioni della settimana scorsa e di questa creano un'elevata umidità e lunghe ore di bagnatura fogliare della vegetazione e dei frutti. Le azioni a contrasto non differiscono da quanto indicato nella scorsa settimana. Va mantenuta una costante copertura della vegetazione con bicarbonato di potassio, metiran, ha una resistenza al dilavamento di circa 20 mm di pioggia. Ditianon, Fluxapiroxad e Pentiopirad, che queste invece tutte e due vanno come partner di copertura, che può essere ad esempio il Ditianon o il Metiram. Questi due ultimi hanno anche azione di contrasto aloidio. Per quanto possibile i prodotti consigliati vanno alternati tra di loro. Oidio. In più frutteti si è rilevata la presenza di sintomi infettivi. Intervenire con Zolfo, che ha azione preventiva, o Cifluffe Narid, si può usare in miscela con Zolfo o Pentiopirad. Nell'eventualità di un successivo utilizzo dello Zolfo, fare attenzione a distanziare il trattamento. Afide Lanigero, Afide Verde del Melo e Afide Grigio. Limitata presenza di Afide Lanigero e Afide Verde. Prime colonie di Afide Grigio. Intervenire con Zulfoxaflor o Spirotetramat o Flupiradifluron, da usare ad anni alterni o Asadiractina. Carpocapsa. È iniziata la nascita di qualche larva. Dove si è attuato l'intervento la settimana scorsa, le catture rimangono limitate o nulle. Sono in aumento dove non si è eseguito il trattamento, che se ne consiglia l'immediata esecuzione. Cidia molesta. Ancora limitate presenze. Euglia. Assenza di voli. Lito collette. Limitati voli. Rodilegno giallo. Nei fruttetti interessati si consiglia di installare le trappole e la confusione sessuale. Pero. Fase fenologica. Accrescimento dei frutti. William tra i 13 e i 14 mm di diametro. Abate da 12 a 14. Conference da 12 a 16 mm. Kaiser da 9 a 12 mm. Ticchiolatura. La vegetazione è molto recettiva. Attività di contrasto come la maculatura bruna. Maculatura bruna. Comparsa dei primi sintomi su foglie e frutti. Il previsto innalzamento delle temperature per la settimana prossima favorirà la sporulazione. Tenere protetta la vegetazione con prodotti quali fluaximan, mancozet, ziram, metiran o captan. Colpo di fuoco batterico. Sintomi visibili su frutteti già colpiti in precedenti anni. In presenza di secondi fiori intervenire. Psyledi. Inizio delle prime ovide posizione con uova bianche. Eulia. Limitati voli. Cidia. Limitati voli. Carpocapsa. Nessuna cattura. Veniamo ora alla parte che riguarda la cimice asiatica. Gli adulti continuano a volare verso i fruttetti. Al momento la diffusione di trappole con catture rimane invariata, circa il 90%. E così pure la media generale di 10 adulti per trappola. Sul pero si catturano in media 14 individui per trappola, mentre sul melo la metà. Per cui la differenza in questo rilievo è marcata e ciò rispecchia anche la differenza tra le due aree della media bassa pianura. A nord circa 15 catture per trappole. A sud circa 6. Dopo un'attenta valutazione dei propri frutteti e a seconda della presenza di frutti, sappiamo infatti che molti frutteti sono scarichi a causa della gelata, potrebbe essere necessario intervenire con insetticidi sugli adulti, a seconda della convenienza come appunto già sottolineato. Sicuramente gli adulti in questo momento, presenti nei frutteti risparmiati dalle gelate, possono produrre danni precoci ai frutticini con formazione di successive deformazioni profonde. Inoltre pongono le basi per la colonizzazione definitiva del frutteto, tramite le ovide posizioni che sicuramente saranno osservate dalle prossime settimane. Il tutto va valutato in funzione anche dello stato vegeto produttivo e delle prospettive di produzione dei frutteti. Le modalità di intervento e le sostanze attive da utilizzare vanno concordate seguendo i consigli del proprio tecnico di riferimento. In caso si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, in modo da far spostare meno cimici possibili durante l'applicazione. Ed ora un saluto al prossimo notiziario del Melo del Pero.